Mercoledì 22 agosto 2018, benvenuti, bentornati. Nuovo appuntamento con la tecnologia E-Tech Summer Edition che continua anche nella seconda parte di questo mese. Manca poco oramai al ritorno della regular season che partirà il 5 di settembre in diretta alle 17 con tutto ciò che poi sarà l'avvicinamento al grande evento che secondo me ci porterà di qui a un mese più o meno ad avere in tasca i nostri nuovi giocattolini e speriamo non solo in tasca. Perché? Perché oggi è il 22 di agosto e praticamente sono tre settimane che io non tocco un iPad. Questa è la storia di come sta andando questo esperimento che avete deciso voi. Riassunto delle puntate precedenti per chi non... principalmente per chi non mi seguisse su Twitter. Io di solito uso il mese di agosto come mese detox per la tecnologia. Nel senso che ovviamente parlando di tecnologia cerco sempre di tenermi sul pezzo, di appassionarmi sempre di più a cose abbastanza strane tipo buttare tutta la mia vita digitale solo attraverso un tablet e affiancandolo ad uno smartphone, però usando prevalentemente il tablet. E quindi quando alla fine di giugno, inizio luglio, ho detto io cosa faccio? Come butto via quest'estate? Cerco magari di disintossicarmi da quello che è veramente il centro di gravità permanente per dire l'abbattiato del mio universo tecnologico. Per cui ho detto in qualche modo io devo tranquillamente staccarmi dall'iPad il più possibile. Come lo faccio? Lo faccio gradualmente, lo faccio in maniera soft, chiudo l'iPad in un cassetto durante la giornata e magari di giorno leggo di più, semplicemente dormo, faccio più moto, mi distraggo di più, oppure proprio me ne privo e quindi anche la sera devo trovare altro da fare perché altrimenti la sera avrei preso il mio bel iPad, Netflix, SkyGo, eccetera, eccetera. Non riuscivo veramente a prendere una decisione e quindi ho detto buono, faccio un bel sondaggio su Twitter e diciamo che quello che poi decideranno i followers sarà il mio destino. E quindi il 28, credo, di luglio, quando c'è stata, mi ricordo ancora, l'eclissi di luna piena, ho detto buono, poi non so se sarà l'eclissi, quando c'è stata la luna che tutti l'hanno fotografata, ho detto buono, ho fatto un bel sondaggio, ero lì proprio a vedere la luna, ho detto che cavolo faccio, non lo so. Ho fatto un bel sondaggio e mi è stato detto Jacopo, basta iPad, cioè banalmente basta iPad. E quindi praticamente sono tre settimane dall'inizio del mese che io non ho un iPad, nel senso che il mio unico dispositivo tecnologico è un iPhone. E quindi sono qui a raccontarvi un attimino come va poi questo dispositivo e anche quelle che un pochino sono state le sensazioni che mi hanno coinvolto in questo inizio di esperimento perché non è che finisce con la puntata di oggi ma speriamo possa finire di qui a un mesetto, nel senso che spero che Apple faccia una bella presentazione massiva e anche iPad sia inserita nella presentazione di settembre perché altrimenti potrebbe essere un pochino più problematico anche se però stavo pensando poco prima di iniziare a registrare per la linea editoriale del podcast forse sarebbe meglio che appunto l'iPad venga presentato ad ottobre ma appunto sarà magari argomento delle prossime puntate. È bellissimo iPhone, torno a ribadire quello che ho detto nella puntata del primo di agosto in cui vi accennavo questa storia è un dispositivo che ho apprezzato ancora di più in queste tre settimane vi ringrazio perché aveva un dispositivo che costa perché alla fine più di 1000 euro per un telefono in sostanza li abbiamo sborsati in tanti e quindi è un dispositivo bello, è un dispositivo funzionale è un dispositivo che ti cambia il percepito nel senso che io ero abituato a sbloccare poche volte l'iPhone con la faccia e ero spesso abituato ad usare l'iPad con il flash ID. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire avere un dispositivo che si sblocca anche con le mani sudate perché comunque fa caldo, si suda e quindi il dito suda mettendolo sul touch ID quindi io tre volte su quattro nel mese di luglio dovevo inserire il codice che è un codice di quattro cifre ma comunque dover staccare il dito, pigiare dei bottoni su uno schermo e poi sbloccare il prodotto. Questa cosa sinceramente non mi capita con l'iPhone X molto 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 bene. Poi io non sono ancora su iOS 12, ho la beta, cioè sono contrario alle beta quindi ancora la 11.4.1 e poi sarà il mio sistema operativo fino a che uscirà la stabile di iOS 12 dopo l'evento. e quindi già adesso funziona molto bene, sento tantissimi amici con cui parlo quotidianamente da Francesco a Alex, a Marco Calabrese che mi parlano veramente bene di iOS 12 su Face ID. e quindi già adesso è un buon passo che poi Apple continuerà ad evolvere sia con semplicemente un sistema operativo che anche con una seconda generazione di Face ID che dovrebbe arrivare nel mese di settembre. Altra cosa che oddio come ho fatto a vivere senza è lo schermo OLED perché ho sempre apprezzato lo schermo OLED, ne ho sempre parlato bene però il mio schermo principale era uno schermo LCD perché comunque iPad è uno schermo LCD questo dispositivo ha uno schermo della madonna lo devo ammettere e devo ammettere che l'HDR sia su Netflix che su YouTube che è presente solo su iPhone X perché mi è stato spiegato che alla fine l'HDR su Netflix, su iPad è qualcosa di finto però l'HDR si fa ben vedere ed è un qualcosa di fenomenale mi sono visto un botto di contenuti sullo schermo da 5 pollici e 8 ed è un dispositivo che oddio si vede da Dio la serie TV anche se non è uno schermo della madonna e quindi Apple ti prego mi metto in ginocchio i nuovi iPad, fammeli, con lo schermo OLED me ne presenti anche uno prendo quello anche se non mi metti no, mi prendo le LTE perché ho fatto una vaccata quest'anno a prenderlo senza LTE che poi è anche un motivo per cui per cui in ogni caso avrei usato molto di più l'iPhone in quest'estate è un dispositivo fenomenale io poi arrivavo da una generazione prima perché comunque io non ho fatto il passaggio da 7 ad iPhone X io ho fatto il passaggio da iPhone 6S ad iPhone X e quindi io sto apprezzando il doppio audio Apple è sempre stata storicamente propensa a migliorare l'audio io sono stato un artefice dell'equazione mi metti 4 speaker ti compro l'iPad Pro il primo iPad Pro io non l'ho preso per l'Apple Pencil non l'ho preso per la Smart Keyboard poi avrei apprezzato tutto questo ma semplicemente perché mi dai 4 speaker io ho due orecchie quindi sentire l'audio che usciva solo da una parte mi faceva quasi cavare il cervello e quindi non ho mai apprezzato questa cosa appena c'è stato sul 12 pollici l'ho provato in Apple Soletto wow però è troppo grande allora aspetto quello piccolino aspetto quello che poi è arrivato a marzo del 2016 adesso in qualche modo mi ritrovo la stessa caratteristica su un telefono ok sono stato possessore felice di HTC One M7 con la collaborazione con Beats è un audio veramente ottimo quella esperienza non l'ho più ritrovata fino ad iPhone X iPhone X che sicuramente non brilla però nel vedere dei contenuti la partita la partita di lunedì sera la sono vista su iPhone X e ragazzi fa comunque la differenza sentire un audio più coinvolgente perché comunque la componente audio per me è qualcosa di fondamentale perché il mixaggio piuttosto che semplicemente il sound design è qualcosa di è qualcosa di principale cioè migliorano sempre io cerco di migliorare nel mio piccolo anche l'audio di questo podcast di stagione in stagione perché per me l'audio è una parte importante io sono molto più fruitore di audio anche se settimana scorsa vi ho parlato solo di contenuti video però io ascolto molto di più audio on the end soprattutto quest'estate piuttosto che vedere contenuti video per cui l'aspetto audio l'ho sempre preso meno in considerazione su uno smartphone perché appunto avendo gli iPad Pro l'audio era coinvolgente destra e sinistra e speriamo sui prossimi iPad che la questione venga ancora di più migliorata e quest'anno devo essere sincero sono molto combattuto se prendere il modello da 11 pollici il presunto modello da 11 pollici oppure la terza generazione di quella del 19 appena usciranno farò le mie valutazioni perché sono veramente 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 combattuto la cosa abbastanza interessante di tutto questo è che comunque Apple ha fatto dei buoni passi in avanti rispetto a una serie di cose che per lei erano nuove nel senso che appunto lo schermo OLED ha fatto un passo in avanti perché finora aveva portato solo schermi LCD solo schermi IPS ha preso il suo primo smartphone ci ha buttato su uno schermo OLED ma ha fatto uno schermo OLED molto 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 ben fatto è stato premiato da DisplayMate la taratura di colori è eccezionale non è un display OLED simile Android l'audio idem non ho provato iPhone 7 cioè l'ho provato ma non l'ho avuto per così tanto in mano da poter fare un paragone però secondo me è un qualcosa di veramente ben fatto la doppia fotocamera io non avevo mai utilizzato la doppia fotocamera anzi io sono stato uno di quelli che usando principalmente l'iPad se dovevo fare una fotografia piuttosto la facevo con l'iPad perché era il dispositivo che avevo quasi sempre in mano l'iPhone era semplicemente il dispositivo che avevo in tasca mentre era in movimento vedo il mio gatto sto guardando una ricetta sull'iPad faccio la foto con l'iPad so che sono una persona brutta per questo me ne rendo conto che c'ha la fotocamera l'iPad Pro c'ha la fotocamera dell'iPhone 7S e speriamo che quest'anno sugli nuovi iPad Pro mettano la prima fotocamera dei nuovi iPhone dettaglio a parte come si vive senza iPad mi manca è poco ma sicuro perché comunque l'esperienza e il coinvolgimento che ti dà uno schermo più grande in determinate situazioni è innegabile che che appunto non ci sia con uno schermo da 5 pollici e 8 però devo ammettere che pensavo peggio ok che comunque le serie TV le guardo su iPhone ma le guardo anche su Smart TV guardo anche con l'Amazon Fire Stick Basic quella la chiavettina HDMI di Amazon però comunque mi sono ritrovato spesso in camera mia con l'iPhone a guardarmi delle serie e devo dire l'ho detto prima il coinvolgimento che ti dà uno schermo di questa fattura quindi uno schermo OLED con i neri assoluti con l'HDR è un qualcosa secondo me di di fenomenale mi mancano tanto gli accessori quello quello sì principalmente la Smart Keyboard perché comunque io scrivo parecchio sto già preparando la nuova stagione del podcast sto già preparando in nuovi contenuti per un iPad Guy i primi contenuti perché comunque ci sono stati solo dei tweet fino a questo momento scrivere tutto su iPhone funziona tutto ma è piccolo c'è uno schermo piccolo e poi non ho tutta quella libertà che avrai con una tastiera con tutte le shortcut non voglio connettere una tastiera buttuta all'iPhone lo sto facendo sull'iPhone consapevole e qui ovviamente un applauso deve necessariamente andare ad Apple perché si sa benissimo che quando usciranno i nuovi iPhone quando usciranno i nuovi iPad io semplicemente ripristinando tutti i miei backup ma anche senza ripristinare i backup ho già tutto condiviso online cioè ho già tutto condiviso con il cloud per cui se sto aspettando il corriere che mi consegni un nuovo iPad e nel frattempo ho una nuova idea per il podcast me la segno sull'iPhone magari su Things prendo un nuovo iPad lo configuro faccio login in Things e continuo a lavorare quasi in maniera indolore ok devo avere un minimo di tempo per configurare il nuovo iPad è vero però comunque è una nuova esperienza che sto portando avanti anche perché devo essere sincero una delle cose che mi ha detto Jacopo privati di iPad è stata la solita frase che dicono tutti eh io faccio tutto con lo smartphone ovviamente io non ho fatto l'italiano medio non mi sono installato Whatsapp cioè ho continuato a vivere la mia vita digitale che avevo prima quindi iMessage quindi Telegram quindi Tweetbot ma principalmente con l'iPhone perché comunque o meglio prevalentemente con l'iPhone ovviamente poi ripeto Smart TV e anche un po' Apple Watch però la cosa è che ho capito un pochino il punto di vista degli altri non ci sto tutta la vita mi manca l'iPad mi dicessero vuoi un iPad pro nuovo a 200.000 no perché non c'ho i soldi però comunque mi dicono preferisci ti diamo un dispositivo vuoi avere il nuovo iPhone il nuovo iPad tutta la vita tutta la vita mi manca mi manca poter scrivere con l'Apple Pencil mi manca lo schermo grande però in ogni caso le cose si possono tranquillamente fare solo con un iPhone non siamo ancora nel pieno del rientro e quindi tutta la mole di dati che che di solito ci sono in un flusso di lavoro però comunque l'iPhone è comunque uno strumento molto potente e io non utilizzavo tutta questa potenza e quindi a settembre ottobre quando avrò il nuovo iPhone quando avrò il nuovo iPad vorrei poter bilanciare il tutto quindi il weekend magari l'iPad usarlo solo la sera usare prevalentemente l'iPhone durante il weekend la sera magari metter l'iPad l'iPad a caricare presto e usare l'iPhone tutto questo mi ha portato a rendermi conto di che dispositivo potente avesse in tasca tutti i giorni e quanto io sia un deficiente perché non mi sono reso conto di tutto questo unico aspetto negativo ovviamente la batteria perché ci arrivo quasi sempre a sera ma prima io con l'iPhone ci facevo magari anche più giorni però comunque bisogna essere sinceri che è una buona autonomia all'inizio ci ricordiamo tutti iPhone 4 iPhone 5 forse che ci lamentavano tutti eh però l'iPhone non ha la batteria che dura cioè con un iPhone 10 si arriva tranquillamente a sera eh io prima con iPad a sera ci arrivavo ma ogni sera dovevo ricaricarla e quindi in qualche modo avere due batterie su cui contare is meglio che one come direbbero quelli del Maxi Bon per cui il mese di agosto continua voi continuate a mangiare il Maxi Bon e continuate magari ad ascoltare ietech perché ovviamente ietech non va in vacanza ci stiamo avvicinando a nuova stagione ci stiamo avvicinando ai nuovi iPhone per cui ragazzi veramente ci siamo buon fine buona fine di agosto